Raffanowski, Praga No, Sio è venuto scuro, denè Quindi, destro, torni indietro, torni indietro, torni indietro, perfetto, solo lì, dai che andiamo. Andate, ritorno, detto Scano. Così, guarda, 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 guarda. Andata, ritorno, molto bene, molto bene, ragazzi, molto bene. Molto bene, dobbiamo quasi la squadra di più alto, dai. Oh, lo skip o lo fate in mille o non lo fate. Mario, o in mille o non lo fate. Se non avete la panna in mille, non lo fate. Che a quel punto, quasi, l'amore, perché allora, voi, gli altri, non c'erano niente, solo per correre dietro e qui sotto. Ve lo fa poventato?